Universia di Taipei 2017 Universia di Taipei 2017, nuoto, 4x100 mista femminile di bronzo, quarta la quadarella nei 400 L'Italia del nuoto rimpingua il suo bottino a Taipei. Rassegna agli sgoccioli, la 4x100 mista femminile si mostra compatta e cede solo a Giappone e USA 40.024 per le nipponiche, 25 centesimi il ritardo del quartetto americano. Zofkova, Verona, Dilido e Pezzato difendono l'ultimo gradino del podio Meno Gloria al maschile, Millie, Tognato, Carini e Dazzeri terminano in sesta ruota, 33.713. Ruggito a stelle e strisce, 33.327 per gli USA Russia e Giappone a seguire. Nei 50 SL, al femminile, la Baldwin, 2502, precede la Comeneva, terza la Konopka. Un pizzico di amarezza al maschile, perché Dazzeri manca l'appuntamento con un metallo pesante per pochi centesimi. Titolo a Lyukkonen, 2202. La Jastin stritola la concorrenza nei 200 farfalla, 20.821, oltre tre secondi e il ritardo della Van Berkel. Quarta la Petronio, 21.150, la Ostandag ferma l'ascesa della nostra nuotatrice. Duello nipponico nei 400 misti. Seto mette alle corde il connazionale a Gino nei primi 100 metri. Vantaggio rassicurante ed epilogo scritto, 41.198, record delle universiadi. Simona Quadarella manca, invece, il Tris. Dopo 1500 e 800, si ferma nei 400, confermando di fatto il risponso della batteria. Manca il necessario progresso per insidiare la Koehler, al riscatto su distanza ridotta. Evans e Schmidt prima della Quadarella, quarta ma con il sorriso. Infine, 50 Rana di. 3077, Oro Cottrell, la affiancano Picchette ed Eriksson, rispettivamente argento e bronzo. Grazie per la visione!